Gianluca Casiglio è arrivato anche l'esordio dal primo minuto in campionato, una gara abbastanza tosta perché il Vico Eguenzi è una squadra giovane, molto molto aggressiva che per larghi tratti vi è venuta a prendere fino nella vostra metà a campo. Sì, sì, abbiamo affrontato una squadra molto importante, sapevamo che loro erano una buona squadra e ci siamo preparati al meglio in questa settimana. Probabilmente un po' di leggerezza di troppo nel primo tempo non vi ha permesso di sbloccare il risultato, poi nel momento in cui è arrivato l'1-0 San Marzano è andato in campo un po' più sciolto, diciamo così. No, vabbè, siamo stati sempre molto attenti anche dopo aver fatto il primo gol, siamo stati molto bravi soprattutto a mantenere il risultato e farne un altro. Adesso arriva la Coppa Italia, l'esordio nella fase nazionale, la vittoria della Coppa regionale ormai è andata in archivio, la festa è finita, quindi resta quest'altro obiettivo da percorrere perché, come ha detto il Presidente, come da sempre ha detto il Presidente, noi corriamo per tutti gli obiettivi. Sì, la Coppa Italia è un obiettivo molto importante, mercoledì affrontiamo il Tricarico, una squadra importante dal punto di vista di gioco e questa settimana lavoreremo per andare là e fare bene.